Eeeh, ciao cari, sono Atrix, signori! Bentornati cari nel canale, regà! Torniamo su Arson, anche perché sto a portare solo quello, quindi è inutile che per il tempo lo dico. Cari, card review, finalmente la nuova espansione sta uscendo, ci sta facendo vedere qualcosa, ci sta uscendo cose interessanti, chi più chi meno. Io cari, vi lascio subito alla card review dettagliata che abbiamo fatto ieri su Twitch, invitandovi caldamente. Non chiaramente in senso termodinamico, ma proprio ad andarci, perché cari, ieri live sono successe cose particolarissime. Una tra tutte, il maestro, o meglio ancora cari, il principe dei Saiyan, Vegeta in persona, mi ha fatto un regalo incredibile. Che vi invito cari, ripeto, ad andarla a vedere, perché è una figata. Cari, io vi invito sempre, come ogni volta, a lasciare un like, a fare una condivisione, un commento, sapete quanto è importante. Questo cari aiuta il mio canale a crescere, e io ve ne sono gradi, tutto questo chiaramente se il contenuto è di vostro gradimento. Nel mentre cari, fate un buon proseguimento di giornata, perché non ci vedremo mai più durante questo video. Un grosso abbraccio, e bella, good vision. Signori, Warpuff è la prima carta, questa mi pare che è uscita avanti ieri, giusto? Sì. Giusto, mi pare che è uscita avanti ieri. Oggi, da Rione 81, grazie mille caro per il sub, amico mio, benvenuto. Oggi non farò gli stro pool, cari, perché non abbiamo tempo, e soprattutto perché su Facebook ho già visto le vostre impressioni sulle carte. Va bene cari, questa carta è fortissima. Ma per l'appunto, per l'appunto cari, Warpuff, che fa due mana, Echo, fa un danno a tutti i minion. Tatillo, che vuol dire Echo? Echo vuol dire che può essere utilizzata più di una volta in un turno, come l'evoluzione instabile dello sciamo. Perfetto, ecco ma stable evolution. Allora cari, io quando ho visto questa carta qua, io penso che sia anche giusto farlo. Ho fatto un paragone, no? No, chiaramente questa è una oe, una oe del warrior, e ho fatto un paragone rispetto ad altre oe del gioco. E quindi ho fatto un paragone con la Volcani Potion, e quindi ho fatto un paragone con Flamestrike, con Dragonfire Potion. Come si chiama quella? La 6 del prete che fa 5 ragni a tutti, i nomi non mi ricordano. Dragonfire Potion. L'ho detta bene, quella mi pare che peraltro va in wild, giusto? Sì. Comunque a prescindere da questo, se voi cercate chiaramente di pareggiare il costo in mana rispetto a queste oe, anche Flamestrike eccetera, chiaramente non ci arrivate, perché è normale che sarà sempre una carta che costa di più rispetto alle altre. Questa carta però è un'unica carta, questa è una carta del warrior, e quindi solo, cioè se una carta può andare a avere l'effetto di una oe di un qualsiasi altra classe, quindi Volcani Potion, come Flamestrike per il mago, come Lightning Stone per lo shalano, come Dragonfire Potion per il prete, cioè questa carta ha un aggettivo secondo me che dice quello che è, flexibility, la dico in inglese, magari c'è qualche amico che ci serve dall'estero, probabilmente caro questa è un po' come l'illusione della figa, no? Qua c'è nessuno, né che sia dall'estero né che sia donna. Ma comunque... No, in realtà c'è gente dal Canada. Ah, me lo so contento. Sari, questa carta è estremamente flessibile. Questa carta potete tranquillamente, in base al costo di mana, andare a contestare una board, può andare ad attivare, chiaramente, Sliwee the Fish, può andare ad attivare un elemento Aleacolite, cioè questa carta è talmente versatile che la rende, secondo me, estremamente forte. Ti rendi conto, questa carta può assomigliare, anche se costa sempre di più, anche per la Consacration, no? Quattro mana fa due danni, però non fa due danni alla faccia dell'eroe, quindi se vogliamo è un po' più scarsa. Ma, visto che noi la possiamo far assomigliare a qualsiasi altra oe di tutte le classi di sto maledetto gioco, la rende estremamente flessibile e versatile, secondo me, sta carta è veramente tanto forte. Potrebbe, secondo me... È un po' il discorso che facevamo per una carta, no? Che veniva strautilizzata con Renewild, che non mi ricordo come si chiama. A due mana, fai un danno a tutti, se l'avversario ha meno di 14 di vita, fa tre danni. Come si chiama? Revenge, mi pare. Sì, sì, Revenge. Anche quella carta online. Però, questa carta va anche a sostituire, cioè, il goal che va in wild. Se vogliamo, sì, probabilmente andrà a sostituire del tutto Wirewind. È vero che magari, costando due, non può andare a giocare, non può essere giocata in combo con la leggendaria 9, anche se volete dire, ma chi cazzo l'ho giocato mai la leggendaria 9? Cioè, questa carta qua è talmente flessibile, versatile, che secondo me sarà un must in qualsiasi deck contro il Warrior. Nel caso in cui escano, io ho questa carta qua, se volete un numero, gli do 4 su 5 perché è veramente tanto forte. E partiamo col botto, secondo me. Quando danno carta al Warrior così forti e così, dal Power Leader così alto, io so contento. Io so contento. Tantillo, è d'accordo con la mia analisi? Sì. Ma lei quindi si limita oggi a dire sì e no, probabilmente, vero? No. Che cazzo, prima ho detto, ho spiegato Eco, ti ho detto, ho fatto paragoni con il goal, con Zacration, eccetera. Vabbè caro, me l'hai detto un sacco di strozzate, perché il goal non lo sa nessuno. Eco lo sanno tutti quello che vuol dire. E con Zacration, perché probabilmente se l'hai letto adesso da, 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 non so che sito, lei frequenta. È una carta carica che funzionerà assolutamente, secondo me. Non è questa però la prossima, in realtà. Nabbo, ti sei perso una carta. Carta leggendaria del Rogue, Eco, quindi anche stavolta. Ah, vabbè, io lo dico, ma lo sapete tutti. Non ci usciranno più carte pare e dispari. È stata una bella botta. Io sono stato anche abbastanza contento di questo, quindi non vedremo più carte pare e dispari. Questo è giustamente per dirlo. Eco, pure questa, che fa Battle Cry. Aggiunge una carta, un minion leggendario, chiaramente casuale. Allora, ragazzi, io sta carta qua non è che l'ho inquadratta benissimo, eh. Questa carta è una carta che ha value. È successa una cosa particolare, molte, lo direte anche voi adesso, sono sicuro. Subito, appena uno vede Eco, in un mazzo come Rogue, a che pensa? Tantino lei, che ha comunque un cervello sottosviluppato, a che pensa? Questo, questo, questo. Mannaggiaina! Cioè, quando io sento una cosa del genere, mi viene... Cioè, mi nervosisco, mi impazzisco, mi... Mi viene voglia di più... Un cinese affamato e di più agli il riso. Dio strano. Di più il riso. Li prendo il riso! Li prendo il riso da mentre magna. Mi incazzo come una bestia, devo sfogarmi con qualcuno. Non me ne voglio il cinese. Questa carta qua è troppo lenta per essere giocata in un deck come il Quest Rogue, lì. Questa è una carta che ha value. Questa è il value collector, probabilmente, no? È una carta che dà... Dà una buona value, ora c'è una grossa value, è un parolone. Dà una buona value. Alcuni l'hanno paragonata al Malkesar, no? Il cinque mana, cinque sei, che ti butta cinque leggendari nel deck. È una carta che secondo me non c'è n'arte né parte in un deck come il tempo rogue, in un value rogue. Questa carta è value, eh? Questa carta viene giocata in un deck come il tempo rogue. E quindi uno pensa, perché dovrei giocare in un tempo rogue? Perché a questo punto non gioco Shaku, che è un 2-3 con stealth, probabilmente è molto meglio di questa. E soprattutto la cosa che mi dà più noia, che mi mette di brezzo, è il fatto che la carta leggendaria sia random. E quindi voi, al turno 9, io ho capito che giocate 3-2-2, ho capito che comunque avete un vantaggio carte subito, perché comunque è un buon card draw alla fine, no? Vi dà tre leggendari. Il problema è che sono random queste leggendarie. Voi potete fare un turno 9 che fondamentalmente non ha il power level giusto per il turno 9. A me sta carta non mi piace, anche se ho visto che a molti piace, è vero. Ho visto che alcuni fa schifo, alcuni piace. C'è un sacco di contrasto su sta carta qua. Non si capisce bene che è una carta probabilmente che deve essere giocata. E non lo so, non lo so, cioè, in arena, ah beh sì, sì, in arena. Sì, cari, io, sapete, non essendo un giocatore di arena, anzi sono sicuramente scarso in arena. Non farò l'analisi dell'arena ma solamente il ladder, abbiate pazienza. Sì, probabilmente in arena questa carta, essendo value, ha per l'appunto una grossa value in arena. Però io per quanto mi riguarda il ladder, ora ne dovranno uscire anche altre di carte. Però voglio di questa una carta che è lei e sta, cioè, non dipende da altre. Quindi questa carta se la mettete è perché vi dà value. È una value che talvolta, dipendo, può essere buona, ma talvolta potrebbe essere una cosa terribile. Ti dà sghigno, bello. Ti dà... Ti potrebbe dare delle cose brutte proprio, brutte proprio, oppure ti potrebbe dare cose veramente fighe. In realtà basta che tira un tiro e non ne avete fatto. Potete scombarci con Shadow... I nomi, i ragazzi miei... Come si chiama? Con Shadow Step. Chiaramente, ripeto, che il token dell'Eco sarà sempre 3 mana 2-2. C'è non è che l'Eco costa 1. Questo, vabbè, penso sia abbastanza chiaro. No, da dirlo anche per lei. A un master show. Carta di classe... ...dell'Hunter. 4 mana 3-6. Gli altri tuoi servitori hanno rush. Allora, io devo capire una cosa, no? La Blizzard ormai è un po' di espansioni che si ostina... Caro, sai che vuol dire ostina? Ostina, che ostina. Allora, ostina... Vuol dire che si accanisce, si accanisce. Aggettivo. Di persona che persiste con tenacia in un atteggiamento, in un'idea, un'improposito, caparbio, testardo, una ragazza. Che c'entra una ragazza? Matti, Matti, siamo politici di core. C'è scritto qua, una ragazza. Vabbè, che denota una persistenza per lo più irragionevole. Questo volevo. Che denota una persistenza per lo più irragionevole. È irragionevole, secondo me, ancora pensare che possa esistere o che potrà esistere un control Hunter. Perché questa, cara, è bene venia. È chiaramente una carta control. Perché rush? Cosa vuol dire, tatillo? Vuol dire che può attaccare i minion, ma non può attaccare faccia. Vabbè, attaccare nel momento in cui li giochi. Normale che un minion possa attaccare, caro. Nel momento in cui lo giochi, può attaccare. Sì, sì. Vabbè, sì, è chiaro. È critico, quindi... E quindi voi abbiate pazienza, no? Dico, è una carta per lo più contro. Ora, se posso non fa, secondo me, a prima vista delle buone sinergie. Per esempio, metterla in combo. C'è un minion, mi pare, che costi tre in mana, che è un 2-4. Che attacca anche l'eroe a destra e a sinistra, no? Una cosa di questo tipo. Potete buffarlo con la spella 1. Che tappi due di attacco e immunità. A una be... Potete farci delle giocate contro. Ma scusatemi un attimo. Cioè, io qua veramente... Io riprendo il riso e glielo lancio a sto cinese. Cioè, sempre riprendo il cese di prima. Io prendo sto riso e glielo butto. Ma... È una carta che preclude di giocare perlomeno altre 2-3 carte per fare comunque una giocata in control play. Ma finché non mi metto, secondo me, chiaramente non è... Questa è un'opinione personale. Può essere condivisibile o meno. Ora vi leggo. Una carta... Per creare un control hunter è impossibile. Non ci possono non essere AOE decenti. L'hunter, finché non avrà AOE decenti e non mi dica che la spella 7 è una AOE decente, è caro perché la sopprima e la banno, non potrà mai, secondo me, competere in un metacontrol. Comunque competere come deck control. Fatto per cui, cari, il Landmaster Show, per quanto può essere forte in termini di stat e in termini di value play, tu mi devi dire perché devo preferire questa piuttosto che il 2-5 che da carica alle bestie, che peraltro ha carica anche lui. Perché? Ma infatti, ma poi tra l'altro... E se tu mi rispondi, e io qua, guarda, io qua, io qua, ma la cosa me la... Se tu mi rispondi, non... Se tu mi rispondi, perché questa carta è forte in wild che va in combo col Grimpatroon, io prendo il microfono e me lo ficco in culo! In culo me lo ficco! Io ti giuro, lo direi solo per farlo fissare in culo il microfono. Devo essere sincero. Tu non sei nemmeno che il Grimpatroon, vero? Sì, è quello là, quello verde. Eh, quello verde. È Grimpatroon. Grimpatroon, caro, il 3-3 che se prende danni non more, se evoca un altro 3-3. È chiaramente una combo divertente che potresti fare in guai. Che poi ne hai fatto pensare una cosa, no? Aspettate, mi è venuto un barlume di genio, ma se voi giocate Animal Companion e vi esce l'Huffer, cioè questo che dici all'Huffer, fermati dove cazzo vai, tu c'hai Rush? Particolare! Cioè, capisci? Tu giochi questo e poi giochi Huffer, l'Huffer è un po' da faccia, hey man, non ti stai! Che ti dice? Si è annichilito, caro, che succede? Perché ha fatto quel verso strano? Mi è venuta la tristezza pure a me, a pensare a quel là per là, tutto bello, sono carico, ma vado a faccia? Mi sono entristato pure io, aspetta, no, ma probabilmente avrà comunque i charge, non lo so, non lo so, non lo voglio sapere, è una schifezza, è una schifezza, povero Rex, mio caro. Rotten Applebaum, 5 mana 4-5 con Town, ristora 4 saluti al tuo eroe. Ora, di questa carta io in realtà, io chiaramente stamattina l'ho studiato in 3, non ho già partito alle 5, ho avuto modo di studiarmi le bene, e io questa carta appena l'ho vista l'ho passata, l'ho bypassata subito, quindi non sono preparato, ma probabilmente c'è poco di essere preparato in questa carta qua, che è silenziabile, che ha delle stat infime, riferitamente al costo in mana, è una carta che possiamo giocare chiaramente in una classe, per esempio, che non ho mai goduto di heal, per esempio il rogue, Giusto per farne una, ma che secondo me, possiamo dire quello che vogliamo, non compenserà mai il fatto che è una carta estremamente lenta, è silenziabile, questo probabilmente, a maggior ragione, rafforza quella che era la forza della mistress, quella che era la forza del 3,5 mi pare, che curava sempre di 4, quello che usavamo nell'endlock, e a me sta carta, raga, non mi piace, cioè questa carta non è che non mi piace, questa carta è veramente bruttina, per non di bruttissima, non so, se qualcuno ha da dire qualcosa di positivo, il problema è che secondo me non è una carta, per niente, ma lontana, lontana da quella che potrebbe essere una carta metadefining, comunque è una carta che può avere un impatto grosso nel metacompetitivo, della prossima, della prossima espazione, Witchwood Apple, e qua apriamo una contestazione, dopo chiaramente, cari, avendo fatto una cosa, che mi preme giustamente da fare, allora cari, secondo me questa carta, potrebbe essere vista in funzione di un'altra carta del druido, che ho rivelato, che è lo Sweepering Woods, che summona Wisp 1-1 per ogni carta che c'è in mano, vista così, vista così, potrebbe iniziare ad avere un qualche senso, cioè, giocata per esempio in un deck token midrange, perché questa cari è una carta token midrange a tutti gli effetti, potrebbe essere interessante, perché comunque questa vi dà vantaggio carte, perché vi dà vantaggio carte di 2, visto che vi aggiunge 3 trans 2-2 in mano, potete quindi giocare lei, fondamentalmente come 4 mana 7-7, anche se non è un 4 mana 7-7, è vero che vi spawn a 7-1-1 a 4 di mana, però è anche vero che 7-1-1 sono counterabili dalla metà delle AOE del gioco, The File ti distrugge, Mana Porta ti distrugge, Swipe ti distrugge, eccetera eccetera. La cosa interessante in un deck di questo tipo, sono chiaramente i buff, e quindi voi giocate Whispering Woods in 2, per esempio il marchio, e in realtà create una specie di di living mana, senza però perdere i cristalli di mana. Potete giocarla per esempio in combo della spella 3 mi pare, quella che vi dà un cristallo di mana per ogni servitore che avete in board. Potrebbe essere giocata in combo con il gigante, come si chiama? Dillo aiutami caro, per l'amore di Dio. Il gigante 8-8 che costa un mano in meno per ogni servitore, l'avete capito. Potrebbe essere un deck, chiaramente, potrebbe essere una carta, o comunque una combo di carte, che in un deck come il mid, potrebbe il mid token, il mid range token druid, potrebbe avere un senso, e secondo me non è data di negare così sulla fiducia. E poi c'avete Savage Roar, c'avete altri buff, una carta che può dare il suo, per quanto meschina potrebbe essere a prima kit o a prima vista. Potrebbe dare il suo secondo me, quindi chiaramente queste vanno studiate insieme, no, ah, potrebbe essere giocata in combo alla carta 4 di mana, e quindi 8 di mana, potreste avere 7 mana, 7 mana, 7 minion 3-3 in campo, il che non è male. Raga, c'ha sinergia sta carta, e chiaramente, conseguentemente, ce l'ha pure questa, abbiate pazienza. E niente, ormai sono abbastanza stralunato per continuare, proviamo cari a farlo, e lo facciamo parlando del Rebuche. Allora, già ho letto l'hotep, esatto cari, questo ha lo stesso, lo stesso potere di l'hotep, quindi una volta giocata, le spell nemiche costano 5, scusatemi, costano 5 di più il turno dopo. Ha lo stesso effetto dell'hotep, se non fosse però, che chiaramente, non mettete un po' di 5-5, ma che altresì vero, ne avete due nel deck. Raga, paladino, paladino agro, paladino control. Allora, in un control, va bene, per carità di Dio, perché comunque sapete, il paladino control, adesso non ce n'è. Visto che se ne va anche in Zot, secondo me, morirà del tutto il paladino control. Per quanto mi riguarda, se vogliamo chiamarlo control, è sbagliato, nel paladino combo, come avete potuto vedere molte volte, perché ve l'ho portato spesso e volentieri, grazie a Call to Arms, grazie a comunque a Minion che costano poco, voi riuscite in early game a fare una solida board, grazie a Tarim, e giocare un Rebuche in qualche modo, che possa andare a non contestare, no? perché l'avversario, se le spell costano 5 di più, abbiate pazienza, è molto difficile che può trovare una soluzione a board di un OTK pala. Chiaramente, se noi generalizziamo sto discorso, e probabilmente questo spiega la forza assurda di questa carta, lo si fa nell'aggro, e quindi in un dude pala, e quindi in un murlo pala, che nel momento in cui voi avete una board stratosferica, voi ci piazzate a due mani in Rebuche, chiaramente dovete in qualche modo capire quando e come giocarla, in modo che la vostra board è safe da quasi tutte le AOE. Chiaramente il defile vi dà problemi, però cari è un defile che costa 7. L'unica carta che potrebbe disturbare Rebuche è chiaramente quella che attualmente è probabilmente la carta più forte a livelli di AOE, ma è la più forte da quando è uscito il gioco probabilmente che è lo spezza tenebre. Lo spezza tenebre chiaramente cari non è una spell e quindi lì ci potete far veramente poco. Però, a parte lo spezza tenebre, questa carta in un deck come l'aggro pala, potrebbe in qualche modo costringere l'avversario a non giocare spell perché costerebbero troppo e quindi Flamestrike e quindi Blizzard e quindi Twisting Never ne posso dire quante ne volete e quindi Consacration che costerebbe 9. Ma io cari dubito che una Consacration possa in qualche modo risolvere una board di un dude pala o comunque di un altro murlo pala. Cioè, sta carta qua è fortissima. Anche in un control pala potrebbe trovare spazio una carta del genere. Anche secondo me, come ho già detto, la forza vera di questa carta è in un deck aggro in un aggro pala e probabilmente dopo Call to Arms questa carta va a rafforzare ancora di più la forza che c'è attualmente l'aggro pala che è top tier assicurato top tier 1 matematico e niente la Call to Arms io ho fatto la review di Call to Arms appena l'ho vista ho detto raga quasi tutte le altre carte fanno schifo a parte la Linessa ma con Call to Arms solo con questa carta grazie chiaramente agli archetipi dude e soprattutto l'archetipo murloc può andare a rafforzare tantissimo una carta come il paladino e così poi è stato. se voi ci mettete rebuke anche monocopia volendo potete salvaguardarvi una board che al turno dopo probabilmente vince la partita probabilmente rebuke sì una carta forte per me c'è anche poco da dire per me c'è anche poco da dire sul vivid nightmare raga ho letto una cosa su questa carta qua ho letto non so perché non so per quando però ho letto che molti hanno paura di questa carta ma proprio una paura una paura una paura viscerale una paura intrinseca che questa carta potrebbe andare a rafforzare un big priest nonostante il big priest non ci rimanga più niente perché grazie al cielo si ha lodato quest'ultimo bars se ne va in wild mi pare datilo dammi la conferma che anche i shalage se ne va in wild giusto? sì e quindi fondamentalmente cari i shalage era anche comunque in qualche modo i shalage si poteva pure cambiare anche se era estremamente forte in un big ma bars è chiaramente la carta chiave no? e per me l'è stato molte volte la carta chiave sta chiave ti dico poi dove è entrata e senza mars non esiste il big priest e quindi vivid nightmare non è una carta da giocare in un big priest perché il big priest attualmente per le carte che ci sono non è un deck che può essere in qualche modo giocato una cosa positiva è che questa carta potrebbe trovare value in un deck però che è control e voi avete capito voi sapete che in control priest non esiste perché attualmente il prete è o combo o big e in un deck come il combo priest cari io non so dove la trovate voi la value per la baby nightmare cioè il combo priest non è una carta come i sera che potrebbe dar comunque value al bybid perché poi il bybid che fa non vi setta la vita 1 ve lo rende 1 ma l'altra poi è curabile quindi potete fare una combo di bybid più la cura 4 e fondamentalmente a 7 mana avete un'altra i sera i sera per farvi un esempio il problema che non essendoci ancora un control priest che gode per l'appunto di value secondo me la bybid nightmare per quanto può dire per quanto può essere interessante non trova spazio attualmente perché ripeto non c'è value nel combo priest perché voi potete sì assolutamente copiarvi cioè prendiamo facciamolo un confronto con questa carta no molte reflection mi pare si chiami non mi ricordo ora se dico vero giusto se sbaglio il nome talvolta sì la carta del meggia 4 mana che copia il servitore quello lo copia il servitore quindi magari copiare un dragonile 5-6 4 di mana è value no però il vivid nightmare voi vi copiate a 3 mana un 5-1 che con l'hero power diventa un 5-3 a 5 di mana un 5-3 voi che ve ne fate di un servitore che non ha rantolo di morte ad esempio ci fate niente potete copiare un elementare raggiante ma vi serve veramente copiare un elementare raggiante con vivid nightmare secondo me no glinda crosswick letta probabilmente in maniera ma glinda glinda crosswick cari è la nuova leggendaria del warlock anche se ultimamente ne ho vista un'altra di leggendaria del warlock ma dico io ma sto lock no cioè sto lock ora non voglio cadere veramente nel ridicolo e nel 3 ma questo lock fa pompini alla blizzard cioè ragazzi il lock ok il lock non veniva giocato era un anno che non si giocava il control warrior cari è una vita che non si gioca non si gioca nessuno probabilmente gli fa male cioè dopo dopo l'espansione passata al lock gli stanno dando veramente delle carte da un power leave strepitoso glinda crosswick è una carta che ha un power leave strepitoso 6 mana 3-7 peraltro delle stat che non sono nemmeno troppo infime quindi non è facile a turno 6 anche giocata naked non è facile rimuoverla una 6 mana 3-7 chiaramente questa carta trova la massima forza giocata per esempio al turno 10 perché gli altri minion hanno eco e quindi cari vi potete sbizzarrire e quindi potete giocare i grinda coswick in 2 i cosi là quell'altra carta che hanno dal lock chiaramente da un power leave strepitoso che sono i kobold librarian ne potete giocare addirittura 4 o vi piatte 8 danni e poi non ne vuoi sapere niente potete giocarne 4 questo vuol dire che a 7 di mana voi pescate 4 carte no? come se fosse una cosa giusta oppure se vogliamo essere ancora più infime e subdoli e attenzione perché io parlo di control lock ma io lo so bene che Nzoth dà una batosta al control lock però è anche vero che così come Nzoth ti dà una batosta il control lock non è che se ne fanno andare a raccontare perché voi potete giocare questa carta in combo con una carta che sarà secondo me la rogna ed è il motivo tale per cui hanno mandato l'ho capito finalmente è il motivo tale per cui hanno buffato il mountain giant e hanno mandato in all of fame l'oracle perché chiaramente con l'oracle potevate se questa carta vi trovi un turno voi con l'oracle andavate fondamentalmente a millarlo di brutto e e chiaramente con il mountain giant potete fare delle combo in wild molto gagliarde tornando in standard questa carta in combo con la gnomish come si chiama? la 2-3 che toglie la carta l'avversario gnomsferatu cioè ragazzi è imbarazzante è imbarazzante giocate questa giocate due gnomsferatu gli togliete due carte e se invece addirittura questa carta vi rimane avete in qualche modo idea e provate a essere greedy e dite va bene io la provo a lasciare in modo che la gnomferatu il turno dopo gli va a bruciare 4 carte capite che per l'avversario è una cosa veramente tanto severa e raga questa carta come la vedete la vedete ha value ha value soprattutto non è che come il lock ha value ha tanta value e ripeto se rimane un turno questa ancora più value chiaramente gari vale solamente per i minion nella mano però va bene avrei voluto dire chiaramente che anche con la mistress sarebbe stata una buona combo se non fosse che la mistress so in wild e quindi ve la fate in wild mettete un 6 di mana mettete 4-1-1 che peraltro vi danno 16 deal una specie di reno jackson in maniera indiretta e vi curate di 16 glinda coswick cari è una buona carta secondo me eh sì sì esatto caro questo è il motivo dark per cui molte sono in wild e soprattutto è il motivo per cui li hanno baffati oh io ripeto cioè in wild con queste 9 carte io perché poi ne parlo poco della wild si creano delle sinergie impressionanti cioè giocare la glinda crosswick è fondamentalmente un potenziale di 6 molten giant è una cosa che comunque non è che fa piacere proprio a tutti eh no non fa piacere quasi a nessuno probabilmente cioè glinda crosswick dà quel valore a un deck come il lock che avendo comunque dei minion molto forti e ve l'ho detti oh anche lo scarabeo eh cioè anche lo scarabeo che senza anzotto comunque è di poco conto anche lo scarabeo comunque vi da armor e giocare quindi questo e 2 scarabei non è male more mi ha salutato vegeta giustamente lei mi dice ma che cazzo lo stai dicendo eh perché lei sta vedendo ragazzi io vi faccio vedere perché poi non sembro stronzo lo sapete perché c'è sta mirando in live ora vabbè ci credete perché c'è la pubblicità dell'isola dei famosi e quindi la miriana probabilmente quando finirà la pubblicità torna perché è una malattia la sua è una malattia a tutti gli effetti ora c'è la pubblicità quando torna miriana scompare muore finisce fino all'11 fai vedere i piedi della miri eh non sarebbe una cattiva idea in realtà c'ha amore comunque una cosa romantica cosa che posso dire amore mi manchi parla più quando se ti senti pare che mi hai detto te amore mi manchi mi manchi come come la terra al cielo no no come il control manca come il control warrior manca come il night per ammarlang ma perché allora cari night per ammarlang questa non so quanti di voi la conoscano aspetta non è che l'ho saltata ora no allora cari questa carta è tutto tutto il male che c'è attualmente nel mondo tutte le sfighe tutti i problemi che c'è il mondo sono incorporati e impersonificarsi nel night per ammarlang che è tutto è un elementale è un mech è un demore è un murlo un drago una bestia un pirata un tot e un tatillo caro ci mancherebbe solamente il tatillo pure è tutto è tutto ok è un tremana è il buratello tremana 3-4 cari tremana 3-4 non dite che le stats sono buone perché per quanto possiamo essere buone abbiamo visto tanti servitori di tremana 3-4 per esempio il mech che ora chiaramente non so in che zona della wild sta che io odiavo il tremana 3-4 avevamo la tremana 3-4 del mago che vi prendeva una carta ve la metteva nel deck giocata nel kazakus mage rega ce ne stanno tante questa è una tremana 3-4 che può essere tutto e quindi che può andare in combo in un deck murlopala in un deck murlopala una carta tremana 3-4 secondo me per lo stile agro che c'ha non ne vale troppo la pena in un pirate attualmente i deck pirati non ne vedo e quindi in un pirate warrior se vogliamo un tremana 3-4 non va bene perché perde proprio l'implosività aggressiva che era un vuolo un deck come il pirate warrior totem già potrebbe essere più interessante in un totem perché lo sciamano ancora abbiamo visto poco e potrebbero essere nascere veramente cose interessanti quindi totem è buono drago il dragon priest vede questa carta e se la caga nel senso che il dragon priest non ha bisogno assolutamente di un tremana 3-4 visto che ha draghi molto 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 più forte un demone giocate la key dark pact e vi esce il nightmare amarlang tu cosa fai? un bestemio un bestemio in qualsiasi lingua in tutte le lingue per l'appunto lol video è giustificabile giocate golden decay boom nightmare amarlang che gusto no non funziona così mech dico io ma mech 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 mi ricorda solamente delle brutte esperienze che ho passato in passato mage quindi mech e wild elementale eh quindi è meglio del tartar creeper no ah quindi il tuo è ingiustificabile regà a me sta carta non mi piace peraltro è una carta che ha tutti i bait del mondo perché i granchi anche se non penso assolutamente che una carta solo il nightmare amarlang che la leggo ancora malissimo se entrerai in meta ma è difficilissimo non credo che questa da solo basti per far giocare i granchi però comunque i granchi la counter è una bestia la tipa la 4-3 gli fa 6 danni alla sciotta quella che fa 6 danni al drago e se volete proprio una signoria interessante a livello di card row potrebbe essere magari in combo con il curatore ma rimane comunque una 3-mana 3-4 senza poteri cioè è una 3-mana 3-4 che non c'ha grado di battaglia non c'ha lantro di morte non ha effetti positivi è una 3-mana o 3-4 e io penso che io penso che sia una delle carte più brutte che ho visto stasera probabilmente uno si fa attraverare dal fatto che c'ha 3 stringhe di no ormai sappiamo che quando una carta c'ha un testo lungo è una carta forte questa invece non è che c'ha un testo lungo questa è questa potevano anche scrivere all e si evitavano anche probabilmente no inchiosto diciamo inchiosto virtuale si è così quindi è per arena si è per arena si non la faccio troppo facile cioè mantu io non la faccio facile io non la faccio facile perché l'analisi te l'ho fatta per ogni singolo archetipo per ogni singolo cioè se tu mi dici no matti secondo me il nightmare amalang può essere buona per questo e la vuoi fare meno facile dimmelo cioè a parte il curatore a parte qualche buff strano perché poi ci sono delle carte che buffano comunque draghi o murloc allora matti quello che mi chiedo io è veramente è veramente così decisiva può secondo te entra facilmente in un meta il curatore ruota comunque si lo so la cosa è che secondo l'ho letto pure un po' in chat si potrebbe funzionare in un deck marlock ma l'ho detto prima forse è l'unica però scusatemi no cari io magari cioè un deck murloc no io chiaramente deck murloc quando si parla di deck murloc è inutile che ci muovere il culo è un deck aggro una 3 mana 3 4 è una carta vista così troppo lenta ha delle buone stat per l'amor di dio ma è molto meglio il murloc a 3 di mana che dà più 3 di hill a tutti i marlock murloc magari mi sbaglio io io ripeto queste sono opinioni mie potete tranquillamente poi arriva come al solito arriva polento e la fate andare sì ma io questa carta seriamente la vedo difficile da questa carta non ha non ha niente non ha è una chimera è un ibrido ha in realtà tutto ma tutto e niente non lo so non lo so sto cercando di pensare ancora un po' a quello che potrebbe ripeto con i totem potrebbe essere interessante perché lo sciamano vedrà giù qualcosa perché per uno sciamano già un 3 mana 3 4 ci potrebbe stare che lo sciamano non è che c'ha dei minion combati troppo buoni ci potrebbe già stare forse sta bene in un mazzo con diverse razze ecco vediamo poi se può essere ecco se puoi e io me lo auguro finalmente che si cambia un po' di archetipi in un gioco come Arson no? un po' come altri giochi di carte no? in cui ci sono mazzi che cazzo fuoco terra no? sto dicendo un sacco di stronzate per rendervi l'idea in un mazzo ti dice sempre Luca la devi vedere anche in chiave dispari e la vediamo anche in chiave dispari assolutamente sì caro sì però anche lì in chiave dispari ripeto sono uscite cioè in chiave dispari le carte che sono uscite pari dispari hanno un power level esagerato ma secondo me non basta il power level che c'hanno non basta per limitarsi cioè per non giocare carte di quella classe che sono forti e quindi in un dispari druid non giocare swipe wild grow ultimate infestation non è cosa in un dispari mage non giocare frostball fireball polymorph meteora blizzard pirosfera non lo so non lo so non lo so rega vedremo vedremo io auguro di sbagliarmi perché è una carta che secondo me è molto interessante perché non l'abbiamo mai vista però non mi dice niente lì per lì ecco lì per lì witch apprentice witch apprentice cari alla prossima carta ti puzza l'ascella non puoi capire quanto carissimo filì non puoi capire quanto infatti qua non puoi mai l'hai detto oddio mio è un po' che non potevo farlo se si capiva mamma mia come sei dico una cosa strana sei le vespe che stanno sulla buffa che gli gusta la puzza le vespe quando c'è un cadavere un gatto morto un topo no gli girano tipo le mosche sulla merda io so come una cazzo di vespa un mana 0-1 con taunt battle cry aggiunge una spell random dello sciamano nella tua mano quindi cari fondamentalmente è lo stesso fa la stessa identica cosa del cobalt librarian non è vero c'è niente del libro chiacchierone quindi a pavel questa carta potrebbe interessare comunque non poco con qualche differenza la prima è il body e io vi assicuro e qua magari vado controcorrente che non è vero che non è vero che il libro chiacchierone ha un body migliore o meglio è vero che ha un libro migliore perché uno è maggiore di zero e siamo tutti con saluti di questi ragazzi ma questa qui ha taunt e lasciate stacca una bestia quella di poco conto avendo taunt è molto meglio di uno che talvolta un danno comunque è trascurabile del libro avendo taunt va a compensare tanto e super il fatto che abbia solamente zero di attacco non ci fate niente la cosa chiaramente che hai meno rispetto al libro è che il libro vi dà una spell del mage e la witch apprentice vi dà una spell dello sciamano che chiaramente per quello che si può dire lo sciamano non ha spell dal power level di un mage e quindi non so farei un po' di difficoltà io a giocare sta carta anche perché come adesso vedremo abbiamo una carta che secondo me è molto forte che comunque vi dà vantaggio carte e spell dello sciamano non trovo che il witch apprentice può essere un buon sostituto della firefly cioè in un deck come il mid sciaman non posso dire evolve perché per quanto possa rimanere la stable evolution l'evolva via però in un deck come il mid il mid token sciaman il witch apprentice secondo me vuol dire veramente poco io non toglierei mai la lucciola per giocarlo e quindi è una carta che mi fa rimanere un po' così insomma che però è carina ecco e si caro le assomiglia anche vagamente per quello le ha detto che ha dato che assomigliava a lei è una specie fondamentalmente e questa sembra quasi quello che esce dopo X no? la ranocchia 0-1 con Town la stessa cosa potrebbe avere un senso anche perché attualmente ancora di quello che si diceva essere il frozen shaman non si è più visto niente potrebbe in qualche modo ma stiamo a parlare di fantacombo comunque di giocate che non possono andare a compensare un meta competitivo potrebbe essere giocata in combo con la spell del frozen shaman quella che congela e mi pare da più 3-3 tatillo mi aiuti un attimo mi pare di sì congela da più 3-3 è comunque un 3-4 con Town il Town rimane il fatto che sia congelato a noi ci interessa poco perché rimane il Town e quindi ancora meglio quello che vi dicevo molto meglio 0-1 con Town che è 1-1 come il libro che nel caso in cui però lo frizzate si diventa un 3-3 scusatemi un 4-4 però non hanno un Town se vogliamo potremmo anche metterci sta meccanica a parte questo non credo che sia una carta così insomma giocabile Agatha The Witch Battlecry fa 3 danni a tutti i minion e questa va bene dai cioè nel senso vabbè ci sta fa 3 danni a tutti è anche accettabile in realtà allo shaman non mancano E perché alla fine fa un po' quello che fa una Lightstorm ma io non penso che ci dobbiamo focalizzare attualmente sul grido di battaglia bensì su l'Eropower l'Eropower è un Eropower che passivo ti dà la famosa value infinita questo Eropower fatto per cui voglio un attimo interrompermi io non sono un giocatore di arena ma io so che in arena alcune carte le bannino io penso che questa carta è un easy ban in arena perché questa carta qui in arena non è cioè questa carta in arena qui è è sballatissima io cari spero che non si possa giocare Agatha The Witch per l'arena lo spero per qualcuno di voi che magari è giocatore di arena cioè giocare il Beblich in arena con una value infinita secondo me è sbagliatissimo un po' come Rexar no da quello che so Rexar l'hanno tolto perché l'Eropower a due di mana ti dava value infinita cioè tu potevi giocare anche con zero carte bastava solamente che facevi Iropower e avevi la consistenza per quel turno penso non ci giochi penso non ci giochi ora è assolutamente fortissimo perché per quanto possono essere random le spell di Agatha lo sciamano cari ha quelle spell che sono le spell scomode e quindi magari una spell di poco conto ma magari qualche spell vi può essere utile magari un Burst come Lava Burst magari una Stable Portal magari un Vulcano magari un X cioè alla fine voi se la giocate in un deck orientato sul mid control o comunque sul mid range voi giocate tanti servitori ragazzi una lucciola una lucciola sono due spell sono e magari vi da la spell che vi da furia del vento cioè alla fine su N spell che trovate qua sfocia un po' anche l'ingegnere che è in me che è assopito da un po' di tempo su N spell che trovate trovate sempre una spell che vi può essere utile in quella partita magari trovate la spell a 3 di mana che vi cura di 12 cioè ragazzi Agatha è imbarazzantemente forte ed è bellissima Agatha nella sua bruttezza diciamo a livello di fan art è fortissima e poi essendo passiva ultima cosa ma non per importanza essendo passiva voi utilizzate il Lilo Power senza spendere mana chiaramente spendete il mana del Mino questo è abbastanza chiaro è sbroccata regà poco poco da dire inoltre oh per l'amor di Dio fai 3 danni a tutti non è male funge da OE ripeto e ve lo dico in un deck passato sul midrange talvolta voi non giocate a OE voi giocate mana portal assolutamente si però poi non giocate Lightstorm o Vulcano Vulcano sicuramente no Lightstorm è molto rara e quindi in questo caso Agatha funge un po' da Rexar nell'Hunter cioè Rexar talvolta è una delle poche soluzioni che voi avete per fronteggiare un deck come il Murloc Pala di Ut Pala perché comunque è buono il giro di battaglia che fa 2 danni a tutti così come è buono il giro di battaglia Agatha che fa 3 danni a tutti certo Rexar li fa solamente nemici questa li fa tutti però insomma va bene che si può voler tutto chiaramente in un deck basato anche su Bloodlast potrebbe trovare ancora più value e secondo me non è impossibile che un deck come il midrange Shaman senza l'Evolve possa comunque essere un deck competitivo grazie ad Agatha anche perché Agatha comunque mette il power lì perché gli serve secondo me Match Hunter 5 mana 5 e 8 Rush è comune mi pare giusto quando ha i bordi così tattilo qui mi dà aiuto a te perché non l'ho mai vista dovrebbe essere comune quindi cioè comune vuol dire non di classe Rush Battle Cry Summons 2 2 e 1 eccetera ok quindi fondamentalmente è un 5 mana 5 e 8 che fa spawnare all'avversario 2 servitori 2 e 1 a Rush questa è una di quelle carte che secondo me non si inculerà mai nessuno l'Iroi dei poveri ma molto povero ma come fai a dirgli ah vabbè ok vabbè sì se vogliamo sì è in realtà l'Iroi dei poveri ah peraltro con l'Iroi mi è fatto venire oh io poi mi ingrippo mi è venuta una geniata che è una cafonata ma ve la devo dire aspettate un attimo regà la spella 3 mana del prete quella che vi copre il servitore con uno di difesa potete usarla in combo con l'Iroi sono 12 danni e costo 8 l'agro priest non esisterà mai ma esisterà oh vabbè era giusto per darvi una chicca allora cari dicevamo McHunter sicuramente un 5-8 con carica capite bene con rush non è male non è male per l'amor di dio però sponi 2-2-1 all'avversario quindi o magari la giochi in combo con un qualcosa come Wild Ruin con Mana Portal non so con un qualcosa che va a contestare 2-1 oppure in realtà è un l'Iroi che non ci ha creduto abbastanza ed è rimasta è un l'Iroi che ci ha polando a faccia cioè nel senso questa carta è una carta che a me non mi fa cioè non mi fa né caldo né freddo non vedo proprio l'utilità di giocare sta carta carta chiaramente basata sul control ma abbiate pazienza ogni carta che c'è rush è basata sul control e alla fine tu però devi anche ragionare tu spendi 7 mana per avere cosa un 5-7 con charge eeeh ti conviene? 7 mana 5-7 con charge? o cioè a sto punto abbiamo una carta del warrior perché parliamo di ormai quando si parla di rush si parla di warrior abbiamo una carta del warrior che mi pare che è un 5 mana 2-5 però che ha più 3 attacco quando lo giochi quindi è un 5 mana 5-5 che è molto più forte di questa cazzo ma chanter caro cosa vuoi che ne dica ma chanter è anche brutto peraltro questo è quello che sta nella nella sigla iniziale eeeh che vuoi che vi dica che vuoi che ti dica non mi piace per niente 0 eeeh non mi piace assolutamente secondo me non vale proprio la pena 5 mana 5-8 evoca un 4-2 anche se so che è sbagliato ragionare così però comunque 2-2-1 rompono i coglioni eeeh pensate se giocate contro un decagro no eeeh il mac hunter lo giocate magari fa le value trade e gli date un 4-2 all'avversario un decagro non è proprio una cosa bellissima quindi secondo me sta carta è veramente una carta che necessita assolutamente di essere giocata in combo con qualcosa che pulisce e conseguentemente a questo non costerà mai 5 mana costerà perlomeno 6 con wireweed e secondo me a 6 mana un 5-7 con rush quando noi possiamo fare un 5-5 a costo 4 con rush anche se questa va bene non è solo per i warrior ma è di tutte le classi non non vale la pena eeeh non mi piace signori non non mi piace non mi piace per niente red bank no red band swasp è la nuova carta cari a 2 mana del warrior attenzione fermi tutti il rossa è warrior rush ma perché associano rush a warrior ma che ha fatto di male sto poraggio associano rush al war pure prima no quella era quella carta lì era di tutte le classi possibili warrior a prescindere va bene rush a più 3 attacco nel momento in cui è danneggiata quindi va in combo con la spell a 2 anche dai con la spell a 2 eeeh allora 2 mana 1 o 3 rush 2 mana 1 o 3 rush fondamentalmente giocata 2 mana 1 o 3 rush dal livello di value trade non contesta niente no potrebbe essere buona che ne so contro un un minion 1-1 diventa un 4-2 a 2 mana che potrebbe essere interessante ma poi posso dirti una stupidata tu hai detto una cosa caro che potrebbe essere intelligente ma di cui possiamo discuterne tu hai detto giustamente che è una carta molto probabilmente che richiede un'attivazione no ed è giustissimo secondo me però come l'attivi tu questa carta qua allora l'attivi o con l'hero power del decay o wirewind o la spell a 2 ancora non si usa wirewind caro ormai secondo me ormai wirewind è stata soppiantata dalla spell a 2 un po' come è stato prima per revenge che l'ha soppiantata del tutto quindi questa carta in realtà è un 4 mana 4-2 con rush si cioè vedetela così rega perché questa carta qua non è un 2 mana 1-3 con rush anche se in realtà lo è a meno che voi non volete andare vi faccio un esempio no ci avete una storica contro giocate questa andate sbatter con la storica la storica diventa un 1-1 e questa diventa un 4-2 ma questa carta qua è un 4 mana 4-2 con rush quindi con 4 mana tu c'hai un trade dal valore di 4 d'attacco per 4 mana io sto dicendo che questa è una carta di merda e l'ho detto molto probabilmente pur essendo il warrior che io adoro non riesco a trovare un nesso logico per giocare questa carta in un control warrior mi sto sforzando anche se non si vince probabilmente mi sto sforzando sto cercando di sforzarmi per renderla quantomeno giocabile e non riesco a trovare un perché un per come perché ripeto quando una carta poi richiede sempre un'attivazione quindi non si parla più di una carta ma si parla di due carte la già un po' mi se ne cala il naso no? vabbè ho fatto una crasi mi si storce il naso e quindi non so che dite voi il warrior ha il minon che danneggia i servitori sì sì caro vero un mana 1 o 3 mi pare che anche in quel caso però è sempre situazionale riferita a quella e quindi alla fine diventa un 2 mana 4 o 2 sempre quindi necessità sempre di quella carta un 2 mana 4 o 2 con rush è chiaramente buona però ripeto è situazionale no? perché dipende da quell'altra come la giochi sta carta? c'è nel senso mi tengo le arno smith che dite? mi tengo le arno smith io in un control war che veramente qua si parla e mi tengo le arno smith o comunque evito di giocare un drop a 2 di questo tipo qua lord godfrey è per l'appunto quella la leggendaria del warlock di cui parlavo prima no? che stanno mettendo il leggendario per il warlock e control forti brega io 7 mana 4 o 4 battle cry fai due danni a tutti gli altri minion se qualcuno muore ripeti il battle cry è fondamentalmente ha o meglio perché non è ha la stessa sinergia del defile con alcune differenze allora defile è una parliamo parliamo del warlock no? il control warlock è una classe che c'ha aoe perché il warlock c'ha un sacco di aoe e abbiamo il fire e abbiamo defile e abbiamo twisting nether lord gorfrey se vogliamo è una specie di spezza tenebre del prete no? e se vogliamo anche fare un paragone mettendola a paragone con lord gorfrey si spiega ancora di più perché è così forte lo spellbreaker no? perché a soli 4 mana c'hai un 3-3 che fa 3 danni a tutti è anche vero gari che secondo me questa carta ha un potenziale veramente tanto 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 forte e lo dico adesso e lo dico adesso talvolta in un deck come il control warlock potrebbe essere anche il sostituto di una delle due twisting nether perché assolutamente è imbarazzante perché dopo che tu pulisci la board e mantieni anche un 4-4 è OP però voi mi dite va bene però comunque puoi fare la stessa sinergia con il defile assolutamente vero perché potessi giocare defile più talnos potessi giocare defile più la 1-1 con scuro divino perché sono 4 danni ma è anche vero cari che ripartiamo sempre dallo stesso discorso sono comunque carte che per funzionare richiedono altre carte il lord godfrey funziona così da sola a prescindere da altri aiuti è vero che potete è vero che magari vi servono quei due danni per attivare il ciclo vizioso del defile lo chiamo defile ma non è un defile però è anche vero che se voi ci mettete un kobold librarian quindi ottomana funge ripeto o perlomeno la maggior parte delle volte funge da twisting nether in più in più c'avete anche un 4-4 che può essere usato dentro dopo per mettere board io la trovo questa carta assolutamente up cioè questa carta è veramente tanto 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 forte per quello che mi riguarda e ripeto l'ha messa in una classe come il warlock che non ha bisogno di aoe ma se tu mi metti un aoe che peraltro è un minion che ha comunque anche una stat buona perché 4-4 non è male mi fai ancora più incazzare e mi chiedo ma perché non mettiamo una cosa del genere al povero hunter l'hunter perché non merita di servitori che hanno poteri che hanno abilità nel tradare la board come fa il lord godfrey cioè cos'è che ha fatto l'hunter che non fa lo strengh sempre caro il discorso di prima ci sono tutti buoni motivi per per fare in modo che questa carta sia una carta must in un deck come il control warlock che ripeto perde una carta fortissima che è per l'appunto un zot però se tu mi dai già il lord godfrey dove sta l'altra mi dai l'altra mi dai la glinda cronswick cioè mi stai dando delle carte che hanno a livello di value una forza così grossa che giocando un attimo e cambiando un po' il deck anche in funzione delle carte che usciranno possono tranquillamente doppiantare l'uscita di un zot perché rimane sempre la forza del la key in 2 voilord rimane sempre la forza del decay in 2 voilord e rimane la forza di queste due bestie di questi due servitori leggendarie in stile control che hanno una value veramente veramente grossa perché perché mi sembra terribilmente simile anche se non lo è ad unleash the hound non lo è perché chiaramente unleash the hound non ha eco ha carica non rush però ecco secondo me l'hounding mastiff è quella carta che serve per purirlo a board alla fine voi esponate hounding mastiff come se buferasse e andate a far dei trade non dei value trade perché avendo uno di difesa che i value trade vogliano fare a meno che non volete dare una 0-1 con provocazione ma anche lì avrebbe poco senso alla meglio avete con 10 mana 5 hounding mastiff per un valore di 10 danni sparsi per il board probabilmente è quello che pensa la blizzard che potrebbe fungere in qualche modo da board clear anche se in realtà non lo è ma ci si avvicina un poco ne parlavamo proprio tutto oggi ne abbiamo tutto stasera ne abbiamo parlato che mancano i board clear al rexar questo anche se non è un board clear perché vi faccio un esempio stupido uno che mi viene adesso in mente se l'avversario c'ha taunt non è un board clear perché andate tutti a dosa al taunt però è un qualcosa che potrebbe in qualche modo ad andare per l'appunto a tradare una board difficile da gestire per esempio contro un eventuale aggro raga sta carta non è facile secondo me da analizzare bella brutta che sia non lo so potrebbe essere utile in realtà potrebbe essere utile avendo eco inoltre basta ha giocato una sola volta avendo eco l'ha giocato una volta sola con 4 mana fate 4 danni con 6 mana fate 6 danni per quanto trash potrebbe essere secondo me sta carta ripeto in una classe come l'unter e come l'unter e cari questa abbiate pazienza questa è una carta prettamente control se vogliamo mid range ma avendo per appunto rush avesse avuto charge chiaramente sarebbe stata molto molto forte no perché comunque al massimo la giocavate andate faccia erano 10 danni a turno 10 che comunque non è che facevano schifo il problema è questo che avendo rush ormai abbiamo catalogato rush come una sinergia come un qualcosa da attuare in deck control quindi ripetiamo sempre dallo stesso punto un deck control come un control hunter non ha rimozioni di massa non ha oe questa carta pur non essendo una oe perché è un minion non è una spell potrebbe in qualche modo fungere da oe ora dire che questa potrebbe andare a riparare a compensare il gap che c'è con l'hunter e con proprio il problema che ha nel fight in board o soprattutto nel prendere il possesso della board senza spell perché non ne ha è una cosa un po' grossa da dire però è una carta che secondo me è interessante signori questa era l'ultima carta e che dite come vi sembra se l'espansione perché sai ogni volta io dico la compriamo non la compriamo io già l'ho comprata chiaramente come vi sembra a me non sta dispiacendo allora solitamente io dico che l'espansione fa schifo chiaramente regà quello che ci ha regalato angoro secondo me non ci regalavano non esisterà mai più un'espansione come angoro purtroppo perché c'è angoro dalla prima all'ultima carta io ho avuto orgasmi multipli un po' carico come quello che provoco talvolta chi mi è vicino però ecco non mi sta dispiacendo questa mi ha fatto mi fa sicuramente più piacere questa rispetto che a quella passata che non mi è piaciuta per niente e ripeto il meta che c'è adesso è uno dei più brutti mai visti prima secondo me è da comprare abbiamo delle carte che sono veramente forti però poi vediamo quelle che usciranno dopo buon proseguo di serata un grosso abbraccio e bella le tette caro le stiamo domani vado a fare ma le vediamo le stiamo domani ciao carissimi ciao cari Musica Musica